Ciao a tutti, questa è la mia prima video recensione e vorrei parlarvi dei sette killer dello Shinkansen, edito in Audi e scritto da Isaka Kotaro. Perché ve ne voglio parlare? Perché mi è piaciuto un sacco, l'ho trovato divertente e perfetto da leggere sotto l'ombrellone. Di che cosa parla? Questo libro è interamente ambientato su uno Shinkansen, quindi un treno veloce che parte da Tokyo, dove troviamo un sacco di killer, ognuno di quali è un personaggio caricaturale, davvero estremo. Per esempio abbiamo Nanao, che è un killer sfortunatissimo, o la coppia Mikan e Lemon, che sono due killer proprio alla Pulp Fiction. Uno di loro parla solo per citazioni del trenino Thomas, mentre l'altro è uno serio che legge tantissimo. E' divertente perché seguiamo le storie di questi killer che si intrecciano, a volte si incontrano, si scontrano, ci saranno dei morti ovviamente, e tutto gira intorno a una valigia misteriosa. Ve lo consiglio un sacco. Grazie a tutti.